Si è tenuto sabato 6 ottobre presso il LUC di Manfredonia il primo forum di geriatria e l'astenia del paziente geriatrico Pasquale Giambavicchio, Event Manager. Il tema di questo evento è molto attuale, infatti i dati Istat parlano chiaro, la popolazione italiana sta invecchiando progressivamente e genera un fabbisogno sanitario. Noi come Clinica San Michele, quindi come Gruppo Salatto, offriamo un servizio sempre più aderente a questo fabbisogno sanitario. Un servizio all'avanguardia, capace di abbattere le liste d'attesa di un ricovero di pochissimi giorni, un servizio sanitario che si avvale di apparecchiature sanitarie di ultima generazione e di un'equip medica altamente professionale. Partendo dall'evidenza del dato demografico, si sono andati a delineare le caratteristiche peculiari della domanda di salute del paziente anziano. Si è partiti dall'analisi del sintomo dell'astenia per individuare le comorbidità del paziente ultra 65enne. Oramai noi siamo di fronte a patologie diverse, a quelle che siamo stati abituati a trattare. Quanto c'era un paziente con una singola patologia, adesso invece si tratta di un paziente con comorbidità o con multimorbidità. Un paziente anziano oltre i 65 anni, i 75, gli 85, è un paziente che contemporaneamente presenta numerose patologie che definiamo multimorbidità. Si è parlato di percorsi diagnostici e terapeutici da intraprendere, i modelli relazionali da implementare, le capacità di interazione fra l'assistenza territoriale e quella ospedaliera nel rispetto della proprietà delle cure e rispetto dell'esigenza della domiciliarità. Raccogliamo quelle che sono le domande del territorio e abbiamo voglia di interagire sempre di più con i medici di medicina generale e con tutte le altre agenzie del servizio sanitario regionale, con i medici ospedalieri, con gli infermieri, con tutti i professionisti che mettono al centro la domanda di salute che viene dal cittadino.